Il Rolex GMT Master 2 Sprite, il fascino dell'eleganza e dell'innovazione. L'orologio da polso Rolex GMT Master 2 Sprite è una straordinaria fusione di design raffinato, innovazione tecnologica e funzionalità avanzate. Il nome Sprite, in linea con i suoi predecessori Pepsi, Coke, Rootbeer e Batman, è stato scelto per la sua distintiva lunetta bidirezionale nei colori nero e verde. Questa combinazione di colori richiama con precisione la famosa bevanda gassata Sprite. Tuttavia, la popolarità straordinaria di questo modello non si basa solo sulla sua estetica unica. Una delle caratteristiche più evidenti è la posizione della corona, situata sul lato sinistro della cassa. Questa scelta insolita ha reso lo Sprite il primo orologio per mancini nella collezione GMT Master di Rolex. Questa decisione è stata acclamata da una vasta comunità di appassionati di orologi mancini che finalmente hanno trovato un orologio di alta gamma che si adattava perfettamente alle loro esigenze. Un'altra innovazione degna di nota è la posizione della finestra della data a ore 9. Questa posizione insolita della data è stata adottata per mantenere l'integrità e la simmetria del quadrante, contribuendo a conferire allo Sprite un aspetto unico. Il Rolex GMT Master 2 Sprite è dotato della funzione GMT, una caratteristica altamente apprezzata dai viaggiatori frequenti. Questa funzione consente di visualizzare simultaneamente due fusi orari diversi, il che è estremamente utile per coloro che si spostano spesso tra diverse zone orarie. L'indicazione del secondo fuso orario è affidata a una quarta lancetta di colore verde, che si muove in modo indipendente dalle altre lancette dell'orologio. La ghiera bidirezionale verde e nera, graduata a 24 ore, contribuisce ulteriormente a fornire un riferimento visivo per il secondo fuso orario. Il Rolex GMT Master 2 Sprite è molto più di un orologio. È un simbolo di eccellenza, stile e successo che continuerà a ispirare e affascinare per le generazioni a venire.